Pare sempre più vicino l'addio di Massimo Giletti alla RAI dopo l'inaspettata chiusura dell'arena. La decisione presa dai piani alti di Viale Mazzini non trova una spiegazione logica, considerato che in 13 anni di vita il programma ha raggiunto ascolti ragguardevoli, circa 4 milioni di spettatori in media, e Bissalto, l'audital della concorrenza su Canale 5 con Domenica Live. Si era vociferato di una promozione per il bel conduttore in prima serata con 12 puntate speciali, ma nel nuovo numero del settimanale Oggi le ipotesi che circolano sono ben altre. Giletti è stato uno dei grandissimi assenti dei palinsesti RAI, segno che l'idillio con la TV di Stato potrebbe essere giunto al capolinea dopo mesi di insoddisfazione professionale. Ma che cosa farà in futuro? La RAI non sembra aver scommesso sul giornalista che per il trattamento ricevuto ha scosso le coscienze di esimi colleghi che gli hanno dimostrato grande solidarietà. Fiorello, dai dico la Fiore, si è chiesto come fosse possibile che una trasmissione così importante sia stata tagliata. Michel Unzica invece ha ribadito che Giletti sia sempre schierato a favore dei più deboli, auspicando di vederlo tornare presto a fare ciò che sa fare meglio. Il futuro professionale del conduttore si delineerà nelle prossime settimane, poiché è dato in trattative con la sette, dove è approdato anche Diego Bianchi, e con Mediaset. Barbara D'Urso tempo fa aveva smentito la co-conduzione con l'amico Giletti a Domenica Live, ma a questo punto è tutto rimesso in ballo.